bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono computer e oggi ragazzi ricominciano i video aggiornamenti dedicati a fortnite ragazzi il gioco che stiamo giocando assieme tutti i pomeriggi in live e che ovviamente tutti meglio di me sapete stia spopolando da mesi oramai nei giochi per computer relativi agli fps nell'ultimo aggiornamento ragazzi il team di fortnite ci aveva annunciato l'arrivo di nuovi oggetti davvero interessanti tra cui il famigerato jetpack tutti eravamo lì ad aspettarlo la settimana scorsa dieci giorni fa se non ricordo male è uscito l'aggiornamento il jetpack non c'era il team di fortnite si è scusato e ha detto che purtroppo non sono ancora pronti per mandare il jetpack come rilancio globale perché hanno riscontrato ancora dei problemi soprattutto a livello gestionale dei movimenti del giocatore quando indossa il jetpack e ancora non sono proprio convinti della modalità con cui il carburante che alimenta il jetpack debba essere trovato quindi ragazzi tutti ci ricordiamo che hanno fatto uscire al posto del jetpack il fucile da caccia che è fighissimo c'ha questo strano mirino che è un misto tra un 8x e un 6x veramente veramente letale dalle lunghe e medie distanze ma con l'aggiornamento ragazzi che dovrebbe arrivare tra qualche giorno verranno inserite tre nuove armi e una nuova skin ragazzi sono delle cose che ho sbecacciato in giro su google guardando sui siti relativi a fortnite su chi rimane proprio dietro allo sviluppo del gioco ed effettivamente sembrano essere tre cose molto molto fico e la prima ragazzi ve la dico subito la prima avrà come rarità epica e si chiamerà stink bomb ragazzi sono delle granate velenifere cosa vuol dire vuol dire che sono esattamente uguali alle granate fumogene solo che quando le lanciamo rilasciano una nuvola di veleno che va a danneggiare seriamente il nostro avversario e tutti gli avversari che sono dentro l'area di effetto della nuvola di veleno quindi molto molto interessante si potrà secondo me utilizzare bene sia in singolo che in squadre da 20 ragazzi perché tu trovi quelli che ti coprono l'attacco con le granate velenifere trovi un altro che ti lancia le granate a gas e poi vai dentro di prepotenza col mitragliatore si dovrebbe vedere un sacco di roba interessante il secondo oggetto ragazzi sono gli esplosivi radiocomandati cosa vuol dire ragazzi praticamente hanno la stessa funzione del c4 che cos'è il c4 il c4 è l'esplosivo al plastico che troviamo in qualsiasi gioco fps spara tutto che può ricalcare la realtà praticamente con gli esplosivi radiocomandati ragazzi o telecomandati o chiamateli un po' come volete possiamo controllare le esplosioni dalla distanza questo vuol dire introdurre un buon comparto strategico al nostro scusate al nostro al nostro stile di gioco perché immagina solo che tu gli puoi piazzare l'esplosivo all'ingresso delle case glielo puoi piazzare ad esempio gli vai sotto la sua costruzione troc gli metti un esplosivo senza farti sentire badam lo fai esplodere e viene fuori un disastro io ho sempre apprezzato il c4 nei videogiochi sparatutto dedicati alla realtà perché ti danno veramente tutto uno stile di gioco a sé tu giochi stilt bello coperto gli pianti giù il c4 fa un degenero e ti fai le kill senza rischiare prima di parlarvi dell'ultima arma però ragazzi che è davvero basugosa diciamo vi dico anche che arriverà una nuova skin non è confermata non è confermata ma sono apparse delle immagini in giro ragazzi la skin dovrebbe essere quella di un folletto irlandese chi non sa che sono i folletti irlandesi sono quelli che mangiano quadrifoglio con il cilindro verde tutti i vestiti di verde cintura con fibbia d'oro col sacco dietro di soldi vedremo anche questa perché già sappiamo che in fortnite c'è la danza irlandese quella con le mani dietro che a me particolarmente galvanizza di brutto prima ancora datemi ancora due secondi di parlarvi dell'ultima arma che è davvero molto interessante vi ricordo di lasciare un bellissimo pollicione in su ragazzi se vi stanno piacendo e se vorrete voleste vorrà dei nuovi video sugli aggiornamenti di fortnite iscrivetevi al canale per giocare con me sia fortnite sia a clash royale beh ragazzi l'avevamo visto una cosa di simile durante l'evento invernale di novembre dicembre chi si ricorda che arma c'era data esatto lo spara palle di neve adesso ragazzi siamo ovviamente imminenti alla pasqua verrà introdotto penso quasi certamente per un periodo di tempo limitato il lancia uova praticamente ragazzi è un fucile a pompa a ripetizione quindi non va ricaricata ogni volta non va ricaricata ogni volta il colpo ma noi possiamo penso abbia un caricatore da otto più o meno otto nove colpi come il nostro fucile da saldo che conosciamo benissimo ma non si è capito bene questo lancia uova in realtà cioè sappiamo che un fucile a pompa a ripetizione sappiamo che fa di brutto male sembrerebbe ragazzi che le uova quando vengono sparate oltre ad essere esplosive tipo delle mini bombe che diciamo rilasciano anch'esse una coltre velenifera come quella che dicevamo all'inizio di questo video quindi ragazzi a parte grandi geniali per aver fatto lancia uova sarà sicuramente divertentissimo da usare ma lo sappiamo che la componente ironica in fortnite è davvero un punto molto molto interessante e soprattutto necessario da sviluppare per poter garantire sempre anche una buona dose di divertimento beh ragazzi questo era un video aggiornamento di tutto quello che dovremo aspettarci con la nuova patch di fortnite non escludo che ci sia ancora qualcosa ma per il momento ancora io non so niente quindi ragazzi vi ricordo sempre di lasciare un bel pollicione in su se vi è piaciuto questo video e di iscrivervi al canale noi ci vediamo presto ciao 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 ciao